Il tempo qui non vale niente, il titolo della mostra fotografica che è anche un percorso nel nostro passato degli studiosi Paul Schauermeyer e Gerard Rolf 1926-1930, mostra che sarà inaugurata il prossimo 20 settembre al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. L'iniziativa è stata presentata dal direttore del museo nonché della Fondazione Genti d'Abruzzo, Armando De Pompeis e dal curatore della mostra Mariano Cipollini, dal professor Francesco Avoglio, dall'antropologo Anarita Severini e dalla casa editrice Textus. La mostra dal titolo Il Tempo, qui non vale niente, curata e allestita da Mario Cipollini in collaborazione con Alessandra Moscenese e Francesco Perozzi si svolgerà come detto nella Museo dal 20 settembre al 31 dicembre prossimi. Ci sarà inoltre il convegno dedicato alle ricerche etno-linguistiche che gli studiosi d'Oltralpe hanno dedicato proprio alle teri abruzzese e marchigiane che si svolgerà il 20 settembre alle ore 10 all'Auditorium Petruzzi. Sì, è una mostra fotografica che rientra in un progetto culturale più ampio, atteso a far conoscere lo studio fatto da questi due ricercatori svizzeri che nel 1923, fra il 1923 e il 1930, vennero più volte negli Abruzzi per documentare i nostri dialetti e attraverso le schede di catalogazione degli oggetti documentate da un ricco corredo fotografico abbiamo una immagine, una visione dell'Abruzzo come era prima della grande rivoluzione industriale. Poi c'è il convegno internazionale che stiamo ospitando qui al museo e poi ci sarà la pubblicazione, un testo in cui la casa editrice Textus realizzerà un volume completo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le schede.